Il nuovo regalo del governo Renzi agli immigrati è la Social Card? Il governo Renzi ne ha fatti tanti di regali anche in questa legge di stabilità per gli immigrati. Hanno istituito un fondo per i rifugiati, c'è un fondo per gli immigrati, ci sono tanti soldi per loro e tante tasse invece per i cittadini italiani. L'esempio più eccletante è quello della Social Card, confermata l'estensione per gli extracomunitari che già aveva fatto il PD con il governo Letta. Oggi viene confermata per cui ancora una volta il Partito Democratico e Matteo Renzi decidono di privilegiare gli immigrati rispetto agli italiani e tra l'altro aggravante è che utilizzano i soldi che sarebbero aspettati ai nostri pensionati.